Vi ricordate il video che ho fatto per la mia serra per tutte le stagioni? Quella che praticamente si ha a coprire e chiudere senza problemi. Bene, adesso sta arrivando l'inverno, quindi la chiuderò sul davanti, dietro l'ho già chiusa, per mantenere il calore e far durare un po' di più il mio basilico. Poi chiaramente pianterò altre piante. Come vedete è già predisposto con le scanalature, per cui diventerà semplicissimo mettere del celofane e infilare questi profili in pressione che terranno fermo il celofane. Quindi prendiamo del celofane morbido, prendiamo il punto di mezzeria e iniziamo a infilare il nostro celofane. Basta portarlo dritto, in questo modo, e man mano lo blocchiamo. Ecco, adesso lo facciamo anche dall'altra parte. Attiviamo il quadrillo in pospesa e mettiamo il profilo anche di qua. Allora... 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 Adesso è sufficiente prendere un taglierino e tagliare la parte superiore. Allora... 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 lo accorciamo un po che non serve così lungo ottimo, adesso in pratica se voi vedete è un ambiente completamente chiudo io posso chiaramente chiudere la mia terra ed è completamente ermetica sto raccogliendo il basilico quest'anno ne avevo avute parecchie piantine che hanno funzionato bene adesso le ho messe nella serra e vediamo se riesco a tirare avanti ancora un po non fa ancora tanto freddo però ho paura che se vengono le gelate mi muore subito quindi adesso mia moglie mi fa un bel pesto se il video ti è piaciuto metti un bel like e perché no iscriviti al mio canale se ti interessano i miei argomenti ciao ciao